Ha ricevuto una sanzione di 2.500 euro con l'obbligo di regolarizzare la posizione del dipendente il conosciuto locale di Baveno nel quale i carabinieri hanno effettuato nei giorni scorsi un controllo approfondito. Personale della compagnia di Verbania, insieme agli specialisti del NAS e dell'Ispettorato del Lavoro hanno riscontrato che l'attività, assai frequentata in estate soprattutto da Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.